All'indomani della prima di Bianchefagliero all'Auditorium Scavolini che è inaugurato il ROF 2024, il festival svela già il suo programma 2025. Un palinsesto illustrato questa mattina durante il secondo ROF Talk nella Sala della Repubblica. Sarà un 46esimo festival che si terrà dal 10 al 22 agosto e presenterà tre titoli operistici con due nuove produzioni e una ripresa. Inaugurerà il festival il 10 agosto 2025 una nuova produzione di Zelmira diretta da Giacomo Sagripanti. Dopo un anno di festival extra large torniamo al formato tradizionale quindi tre titoli d'opera principale più tanti concerti, un evento finale per i tradizionali 23 appuntamenti cui si aggiungono i concerti dal Museo Rossini e gli ormai tradizionali Salon Rossini. Due nuove produzioni italiana in Algeria e Zelmira e una ripresa il turco in Italia, la ripresa Davide Livermore che aveva riscosso tanto successo alcuni anni fa qua a Pesera, nuove produzioni l'italiana in Algeria con Rosetta Cucchi che ha il terzo titolo al nostro festival dopo Adina e Otello quindi dopo una farsa, un'opera seria, si sperimenta anche nell'opera comica e Zelmira con un nuovo debutto alla regia di Calisto Bieco che debutta al festival. Sul podio avremo Diego Ceretta nel turco in Italia, Giacomo Sagripanti in Zelmira e Dimitri Korciak nel doppio ruolo perché sarà cantante nel concerto conclusivo e direttore d'orchestra in Italia e in Algeria.